Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qualche video della giornata, ma va bene. Allora, potete vedere che abbiamo dei Xbox, dei Playstation, Nintendo, Airports, iPhone, Samsung, MacBook, Mac Studio, PC da Gaming, tutto e di più, Robot Tesla, già vi può fare capire qualcosa, poiché è disponibile nel 2024, e qua potete vedere dei soldi, ma tu dici. Allora, oltre che sia scritto qua, però tu dici. Elon Musk si è scritto. E niente, voglio fare, perché dobbiamo provare a spendere i soldi di Elon Musk, Ovvero, chi è Elon Musk, chi non lo conosce, è l'inventore della Tesla. Ok, vi faccio vedere. Ha inventato la Tesla. È un istituto delegato di Tesla. Se infatti noi cerchiamo Creatori Tesla, possiamo vedere che c'è, per di tutto Elon Musk, poi c'è Martin, questo qui, poi, cioè, che poi, vabbè, non ha una Tesla dietro, però, possiamo metterci una foto diversa per Istanbul, questo qua, Mark Tarpening e Ian Whitting. Le pronunci fanno Cagailos. Per esempio, non spendere questi 217 miliardi, per spiega così, di euro. Tra varie cose. A parte dai 249 dollari, ad arrivare a crociere, e altre cose, da anche 300 mila, per esempio, 300 milioni. Quindi, acquistiamo un mega yacht. Perché non va? Non c'è i soldi. Cursi. Eccolo qui, va. È un po' ritardato il gioco, vi so. E voi, voi che portate le Tesla, voi che tutti i possetti di Tesla facciano un giro, dai, ne prendiamo tanti. Ne compriamo 20. Poi, prendiamo un... Tre edifici modè, due. Così, uno lo tiene per la X, e uno lo tiene per la Tesla. La X, che cos'è? È Twitter. E' stato preso da Elon Musk, con il simbolo della X. Quindi, per qualora il chiavo X. Poi, quasi quasi, lui si vorrebbe comprare una villa. Va bene, ma qui sta. Se qui il tasto giusto. Poi, chi aveva detto, Inventore Tesla Gli attori di Tesla sono Uno, due, tre, quattro, cinque. Lui li vorrebbe regalare a tutti. Quindi, acquistiamo, addirittura. 5 Mega a mezzo. Poi, Acquistiamo un jet privato. In caso di combattere una guerra, Gli diamo anche un cararmato. Anzi, noi ne diamo dieci, almeno riesci a vincere. No, ne diamo due. Dopo che se dovessi comprare gli altri, Tanti si dice li apri. Gli compriamo un elicottero. Perché ci potrebbe stare. Non so perché a volte non va. Ok. Un Rolex. Cioè, per farvi capire cosa avevo speso. Questo vaso. Una isola privata, Anche perché è vero. Guardate. Ovviamente si deve prendere una cassa di dolomiti, Quindi, non c'è nessun problema. Vediamo anche una privata, Dicamente, Non so perché non gli interessano. Però dai, Regaliamole. Chissà, Volei prendere spunto per la Tesla. Volei prendere spunto su qualche attrezzo che sta nella Lamborghini, nella Ferrari. O ne ha bugati. Poi, ovviamente, gli diamo anche 202.000, scusate, Etta di terreno per costruire le fabbriche Tesla. Queste, queste qui, i sedi. Poi gli diamo una di queste. Poi gli diamo una nuova Tesla. Quella che uscìva nel 2020. Qua, cross, ha scritto. E' una road star. Ho capito, forse, che fare. Una model S. Beh. Ho qui. La Ford, no. Una TV, vai. Non lo farebbe mai. Sicuramente lo acquisterebbe. Per tutte le sue centrali testa nel mondo, lui, a ognuna, uno ne darà sicuramente. Quindi, acquistiamole a centinaia. Allora, ho visto che ne ha tante, dai. Ne acquisto cento, anche se so che sono pochi. Attenzione. Lo so che sono pochi. Infatti, non dico che ne deve prendere cento. Ne prenderà sicuramente mille e passa. Però, lasciando questa parte, vai, facciamo centodieci. Non penso di serva, però dai. Due pitch da gaming, così si sia più utile, che può di serva. Poi, vediamo una PS5. Chissà, vuole fare la prova a DGIS. DGIS è di Twitter. Su PS5, vai, già lui, poi fai la prova. Qui, un apportamento moderno, non ci potrebbe mangiare. Poi, ovviamente, per guadagnare, sicuramente vorrebbe produrre un film, se è 200. Sicuramente vorrebbe anche questo, visto che la Teresa, Twitter e tutte le cazzatevali che ha... Noi, signori, abbiamo consumato solo il 2. Giuro che non so che altro cazzo comprare. Allora, facciamo 30 di questi. Almeno siamo arrivati al 4. Emo, sul serio, ne compro mille di robot. Sul serio, non sto scherzando, compro mille robot. Allora, lo so che valgono 20.000 dollari su 207 miliardi di EGLA che ha. Sono quasi niente, però, se voi vedete, il counter scende. Tipo, vedete, 620, 640, queste cose lì, quindi... Comunque è buono. E ne abbiamo acquistati qua 100, quindi stiamo già a buon punto. avendo già il 4,35% consumato, ci potrebbe stare. Però, le cose costano poco. I soldi sono tanti. Quei cazzo fai? Capisco, ti puoi comprare questo da tanti soldi, però, tu dopo dici... Un, tu se ne fai tipo gli 8. Mentre di un Cuso Tesla, un robot Tesla, tu dici... Beh, può usarlo per quella concessionaria a Milano, quella in Romania, quella in Afghanistan, quella in Inghilterra, quella in Francia, quella in Fussia, quella in Ucraina, quella in Austria, quell'altra in Australia, quell'altra in Slovenia, quell'altra in Slovakia... Sì, poi quell'altra in... Non so neanche quali ho detto, buh, negli Stati Uniti, quell'altra in... Che altro sta a Portogallo, quella... Vabbè, ce l'ho già detto... Mi so confuso. Non so che più che un cazzo. Vabbè, quell'altra in America, quell'altro... Che altro... Poi, in Italia ne ha due, mi sa, quindi, comunque... Le vuoi mettere dieci a concessionario? Dai, raga, mi mancano 500, quindi devo fare ancora 500 volte, cliccai su mouse. Quindi, domani finisco, però. Prendiamo subito. Quanti concessionari Tesla stanno nel mondo? Quante auto vende Tesla al mondo? 4 milioni, 527 milioni, 916 veicoli, sì. Produce oltre un milione di veicoli all'anno. In Italia ci sono circa 130 vetture. Un bel 1117 sono della Y-B. Venti, dai, amo di lì. Non ne amo del 3. Boh. Vabbè. Non lo so. Non lo so, sinceramente, quante osta di Tesla in Italia, cioè... Al mondo, quanti concessionari. E' morto del mio... Ma che cazzo? Ragazzi, cercando io Tesla, cioè, vi ricordate? Ogni escono ora, chi compra... Altre cinquanta chi compra una nuova Tesla può trasferirci i full-service link. Poi, ecco come Tesla sforna un'auto ogni 40 secondi. Vedi incredibile. Mi... Le... Stiamo ancora a 4,316. Allora, ma sul serio, mi metto a confronto di tanti di quelle... Parche di opera. E vediamo se è con 300.000 euro. Cioè, raga, sto video dura come minimo 40 minuti, se... Stiamo a prendere qui, sei povere. Ma questo è quello che costa di più di tutti. Mega Yacht qua. Yacht. Non lo so neanche io, però. Vabbè, acquistiamo, raga. Prima o poi gli dobbiamo finire i soldi. Facciamo che con questo arriva a 500 e mi fermo. Sicuramente non arriva neanche al 50 per cento. Si fa impossibile, porco dia, zè. Cioè, tieni un sacco di soldi. Cioè, mettimi delle cose che costano di più. Ma non che costano 10 euro. Cioè, nel senso, ci sono cose che costano pochissimo. Cioè, per farvi vedere, io ho qua la ricevuta. Per farvi vedere quanto è questo ho comprato. E ho speso solo questi soldi, mi rimangono questi. Ma poi spesso a fare la ricevuta, ma che cazzo. Devo mostrare una ricevuta di pagamento. Cioè, poi mi è arrivata questa la bolletta da fare. Cioè, non la bolletta. Cioè, non so come si chiama la bolletta da pagare. Cioè, non so come si chiama la bolletta da pagare. Cioè, no. Cioè, per esempio. E poi ho fatto tutto quello che sto facendo. 22 minuti. Quindi sicuramente. Vi ripeto, ah ma non sta neanche piano davanti, arrivo a 500 e mi fermo, non ci posso credere che non va neanche avanti, scusso. Allora, come sto facendo ora, è più veloce, però ogni tanto si apre con la schermata inutile, vedete? Ah no raga, 500 è supero il... pensavo di noi il 50%, ah non ho neanche comprato una parcavela, vai, noi abbiamo 5, se non teniamo più, 5, oddio, lo devo vedere un attimo come sale, non sono l'intera produzione di cpu, nvidia, non so neanche cazzo è però, ragazzi di solito dobbiamo finire quindi, dai che manca poco marron, dai eh, manca poco, manca poco, ah ne ho acquisto 60 di queste, dopo di che devo per forza acquistare cose diverse, facciamo così. che non ho mai acquistato, quindi acquistiamo, solo uno ad oggetto, per ora, uno stream, uno spotify, vendi, 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 ma si dà una cosa, gli ho detto, ma ma non è neanche un accidenti, fondi. Netflix, 600, 20.000. i vendite contro, 90.000. Quattro, ancora. Come fai che Netflix non ce l'ho più? Mettiamo il po'. Non avevo preso Netflix. Non va. Tanto. Non costano un cazzo per lui, sono regalati. Tanto ho trovato i soldi nel buco del culo. Aspreche, voglio fare una cosa. Facciamo che ne acquistiamo fino a quando non fiscano i soldi, vai. Se non fiscano più, ovviamente, i soldi. L'ho amata pochissimo. Andiamo sopra. Vediamo se riesco a comprare una Nintendo Switch. Ce la fa la Nintendo Switch. Qualcosa che costa, sì, 220.000 euro. Sì, magari. 220.000 euro che magari. Beh. Sennò qua l'altro si fice più. Quanti soldi mi rimangono? Qualcosa da 4 milioni. Sennò qua l'altro si. Ma questa era... Non c'è mai questa 4 milioni. Oh, ehm... Senti a me. Ma è possibile che non c'è troppo pieno? 2 milioni. Un milione. Mi mancano 803.000 euro. 75.000. 5 mila. 5 mila. 491. 192. Non posso compri più niente. Ragazzi. Abbiamo finito. Cioè, guarda tutto quello che ho comprato. Sono messo 20 minuti e 57 di video. Questa cosa. Dovevo farvi dire ricevuta. Però non fa. Si prenderà. Mi si può. Comunque, grazie a tutti per la visione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.